La gravidanza procede bene, il feto non ha avuto alcuna ripercussione. Dopo la grande paura si tira un sospiro di sollievo collettivo in via in Audi a Conegliano, dove ieri sera un 41enne a bordo di una Renault Clio ha travolto una donna di 28 anni originaria della Nigeria, incinta alla sesta settimana. Sono quasi le 7 quando l'uomo perde il controllo dell'auto e sbanda finendo addosso a questa pensilina la fermata 40. È qui che Deborah, questo il nome della ragazza, sta aspettando il bus. Il boato smuove i cittadini e passanti che lanciano subito l'allarme. Tra loro c'è la moglie di un residente, Maurizio Rigato. Ha chiamato il 118 e poi l'ha richiamata per sapere se la persona si muoveva, ma lei non si vedeva bene. Però gli altri poi, è arrivata altre persone e abbiamo visto che si muoveva insomma. Si vede con tutto che sta come un battufolo grande bianco, perché aveva un vestito bianco. Il 41enne albanese di origine e residente a Vittorio Veneto però non si ferma e prosegue la sua folle corsa fino a un'officina di Susegana dove lascia la macchina e cerca di scappare a piedi. Sono gli agenti della polizia locale a Braccarlo a meno di un'ora dall'incidente. È in stato confusionale, sembra alterato. Una volta in ospedale per accertamenti emerge chiaramente la sua positività alla cocaina. Non solo, l'uomo è senza patente da un anno, da quando Briaco provocò un incidente anche lì conferiti. Dettagli che per chi ha assistito alla scena aggiungono sdegno alla paura. Si spera che la giustizia faccia il soccorso perché è una cosa oscena che alle 6 di sera una persona faccia liberamente queste cose in giro. È stato visto il marito correre col bambino in mano, in braccio e ho la pelle d'oca ancora adesso. È stata una cosa assurda. La famiglia di Deborah infatti vive a 50 metri dalla fermata in questa palazzina. Lo stesso marito, sentendo il boato, l'ha raggiunta con lui anche il figlio della coppia. L'uomo per tutto il giorno ha fatto la spola tra l'ospedale e il comando dei vigili urbani in attesa di conoscere l'esito dell'esame sul feto. Il verdetto è arrivato nel pomeriggio e dirà dalle nubi della prima ora. Deborah, cosciente fin da subito, sarà probabilmente sottoposta a un intervento chirurgico al ginocchio. Altri esami radiologici sono in corso. Si deve valutare l'entità del trauma cranico riportato. Il 41enne è stato denunciato per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, fuga da incidente stradale, lesioni gravissime e guida senza patente. Come si fa ad andare via senza patente? Non lo so.